Un testimone della solidarietà che segna il passaggio tra due realtà che operano nel territorio a favore dei più svantaggiati. Il riconoscimento ideato da Anfitorino che ha aderito all'iniziativa dell'Associazione Il Testimone del Volontariato Italia Onlus di Vigevano è stato assegnato durante una cerimonia che si è svolta presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza del Capoluogo Piemontese. Il passaggio di consegne è avvenuto tra l'Associazione Raggio di Sole di Nichelino e l'Associazione Senza Limiti di Torino. Tra le due associazioni premiate abbiamo quella del 2021, il Raggio di Sole che si occupa di autismo e Asperger e ovviamente oggi abbiamo passato il testimone alla nuova associazione che è Senza Limiti ASD per i diversamente abili valorizzati attraverso lo sport. Il significato sta nell'impegno che ci abbiamo messo non solo in questo anno di passaggio perché per noi è stato proprio all'improvviso un fulmino a ciel sereno che ci è stato riconosciuto questo passaggio di testimone, questo premio, però è tutto l'impegno che ci abbiamo messo durante oltre quest'anno ma in questi dieci anni io parlo per me, in dieci anni di impegno nel sociale ad aiutare questi ragazzi. Praticamente facciamo 15 tipi di sport e come ho accennato prima praticamente siamo gli unici in Italia che abbiamo quattro ragazzi che fanno salvamento a nuoto nelle piscine e sono tutti diversamente abili. Poi assieme a tutti questi ragazzi abbiamo ragazzi che nei diversi sport hanno fatto campionati europei, hanno andato a fare campionati mondiali. Diciamo che nel nostro piccolo oggi la realtà sono 150 ragazzi diversamente abili che noi gestiamo in diversi sport. Durante l'incontro sono state consegnate anche alcune medaglie al merito da parte dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia quindi è stato presentato il libro Scrittori in Famiglia, frutto del concorso letterario interno che ha visto la premiazione dei primi tre classificati scetti da una giuria esterna. L'Anfi, l'acronimo Anfi sta per Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia ed è costituita da finanzieri in congedo e da finanzieri in servizio. Quali sono i compiti, i valori? Quello di custodire i valori morali dell'appartenenza e la significatività di essere a fiamma gialla a prescindere se in servizio o in congedo. Tra le altre attività è quello di essere disponibili nei confronti degli associati quale bisogno umano, morale e a volte anche con sostegni concreti. Grazie a tutti.